ho poi due parole anche su hip hop che ho un po' rispolverato recentemente ho riascoltato oggi pomeriggio che qui era considerato che non si poteva uscire per il temporare e non c'è stata neanche una goccia d'acqua ho riascoltato un po' di roba, un po' di schifezze come The Wall che è veramente una cosa oscena io non so come faceva piacere tanto quel disco mi sono riascoltato i sim splendidi, mi sono riascoltato i meet puppets splendidi e ho riascoltato un po' di hip hop recente che non sentivo da un po' e mi sono spizzato i tre dischi classici di Tyler The Creator che è Tiger, Cherry Bomb e Igor bene ottimi promossi a pieni voti sette a tutte e tre specialmente Cherry Bomb l'ho trovato molto potente con soluzioni zappiane niente 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 male, Igor è quello più elettronico mentre Tiger è quello più scarno, più secco, un po' meno interessante il collettivo Old Future dove uscì fuori quel famoso mixtape Goblin che era ancora un po' in fase embrionale, non è male però diciamo non a livelli di quello che poi è successo dopo quindi Tyler The Creator yes, si va bene, vi ho già detto, il mio preferito è Cherry Bomb tra i te, Cherry Bomb, poi metto Igor e poi metto Tiger e poi Heart with Shirt, soprattutto i due dischi quello nero, I don't like shit songs mi pare di si chiami e quell'altro some rap songs o qualcosa del genere ho riascoltato quelli ottimi e abbondanti, alcuni lo mettono come abstract hip hop va bene per me ok, io si è abbastanza abstract che ci sono dei pezzi elettronici però ok si insomma quindi sia Halloween Shirt che Tyler The Creator a Leo Di Maio gli piacciono ecco quindi hanno il placet bene placet mio potete andare sicuri tranquilli e adesso vi saluto che mi sa che è quasi ora di cena ok ok